buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi parleremo ragazzi di brand 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 griff ti sei mai chiesto perché la gente cerca sempre di più il brand il marchio il logo la griff la marca chiamiamola come vogliamo e perché le case le multinazionali del brand investono tanti miliardi perché entri nella tua mente il brand x y z è come una specie di ipnosi se difetti e così come entra il brand nella tua testa dei più forti di te che devi comprare quel tipo di marca quel tipo di brand così anche una parola una volta che entra nella tua mente tipo ansia panico depressione sfortuna maledizioni malocchi chiamali come vuoi ok ma anche la stessa malattia se tu ti convinci che prima o poi ti ammali ti ammalerai come diceva anche san francesco d'assisi nel 1100 dopo cristo attento a ciò che dice ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita eppure san francesco d'assisi non aveva studiato ipnosi non praticava l'ipnosi ma conosceva il potere delle parole il potere il potere della ripetizione il potere della mente il potere della saturazione o la legge della saturazione ok che fa di cui parleremo più avanti per cui cari ragazzi e ragazze il brand come il nel marketing come nella pubblicità ci bombardano dalla mattina alla sera in tutte le lingue in tutte le latitudini con con la pubblicità e ci inculcano nella nostra testa nella testa dei nostri bambini che sono menti più plasmabili perché hanno meno preconcetti meno filtri l'idea che quel tipo di borsa quel tipo di calzatura quel tipo di quel tipo di prodotto servizio il top del top e quindi è più forte di te non andare a comprare andare a comprare quel tipo di prodotto griffato piuttosto che un altro ecco così anche le altre tipi di tipi di defis come la parola ansia se tu senti sempre trasmissioni di ansia 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 oppure paura 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 o depressione 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 ti focalizzi su quelle parole ti entrano in testa da piccolino o perché te ne parla qualcuno o perché vedi tu la tv ti fai plasmare la tua mente che purtroppo diventa un chiodo fisso ora per scacciare questo chiodo come disse un famoso personaggio di qualche secolo fa devi mettere un altro chiodo pulito sopra quello arrugginito e devi capire come fare l'ipnosi di cs vera professionale fatta per te per scacciare questa dipendenza questa idea fissa dalla tua mente mi ricordo un caso di una volta di una signora che in pochi secondi la ipnotizzai perché diceva che aveva il problema che ogni volta che entrava in un negozio non usciva se non spendeva qualcosa perché era più forte di lei comprando sempre le stesse griffe stessi marchi di abbigliamento io dissi signora va bene adesso respiri tre volte profondamente lentamente chiuda gli occhi la terza ispirazione e faccia così 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 è durato se no 20 30 secondi ragazzi e mi ero dimenticato la signora si è stupita si è messa a ridere ma tutto questo era ci siamo visti dopo neanche un mesetto mi ha detto dottore naturalmente tutto a livello informale perché ci siamo trovati è un'amica diciamo una conoscente e ci siamo trovati dopo un mese mi ha detto lei non ci crede però così così sono entrato nel negozio la commessa mi ha detto oggi ti vedo strana perché non stai comprando nulla e aveva fatto tutto lei con la sua mente potente con il suo subcosciente il sottoscritto aveva soltanto guidato il suo subcosciente convinto il suo subcosciente che non ne valeva la pena che spendere soldi tanto per sentirsi bene perché sempre qui l'equazione ragazzi il brand della griff ti fa sentire bene perché tu già ti immagini come ti vedranno le amiche i parenti e quindi ti dai una botta di autostima ma se tu togli dalla radice questa equazione tu non hai bisogno di andare a comprare a spendere soldi per le griffa h24 perché ti basta anche una passeggiata per sentirti bene ok una doccia un libro oppure comprare griffa però con un equilibrio eccetera eccetera ok per cui anche le altre cose negative funzionano allo stesso modo fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fanpage su facebook ipnosi autoipnosi al dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesso al dottor claudio saracino e faccio il condivido con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesso il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e alla prossima ciao